Fammi un finale bello, pastoso, ricco di Domenico Modugno e poi saranno problemi tuoi. Vai, grande Domenico Modugno, vai. Più l'alto, planta quanta la città che sopra, fran. Grazie mille. Sto arrivando, stai, sto arrivando. Grazie di cuore, grazie Domenico. Io sono veramente preoccupato. No! Scusami caro, mi si approfitto della tua simpatia. Tu hai un testo che così apparentemente non dice nulla, insomma. No, non voglio togliermi la sorpresa. Ecco, no, io allora, grazie di esistere. Questo l'ha già detto Eros. Brava, brava. Lei non sapeva nulla di questa cosa. Era dietro le quinte che si rilassava e ha detto, scusa un attimo, vieni con me che ti faccio vedere un signorotto così, o il cannello. E sdunavo. E sdunavo. Oh, e che è successo? Praticamente mi piace perché nonostante il grande successo, secondo me tu sei rimasta una persona semplice, questa è anche la tua forza, cioè la persona della porta accanto. Insomma, io immagino che tu scrivi anche i tuoi testi, anche prendendo spunto dalla vita quotidiana, la vita di tutti i giorni. E io perché, insomma, ho deciso di imitarti, perché hai questo modo bellissimo. Perché? No, perché? Dico, ma domanda, ma per chi ho fissato? Esatto. Ma per chi ho fissato? No, stiamo domandando tutti. Soprattutto se lo domanda lei. Ecco. Lei, perché l'hai fatto? Perché? Perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto? Non è un'altra cosa. Credevo che tu fossi felice, invece... E... Allora. Allora. Io immagino questa scelta. Siccome tu hai questo modo di cantare che metti di cavarità, mi piace da morire, ma mi mette ansia. Perché io mi sono sempre domandato, ma respira? Cioè, nel senso... No, nel senso che anche quando, per esempio, salve a tutti, Carmen, non è che salve a tutti, è... Saa... Vettuti. Allora... Eh? Ecco, sì. Allora io... Allora che cosa... Sì. Oh. Allora io mi immagino... Dico, la signora Maria Rosa... Che è la mamma. La mamma che ogni mattina, su su come in zero, dice, avrà superato la notte, c'ha fece. Secondo me. E allora dico, va la mattina, va la mattina alla cameretta di Carmen, Amore mio, c'è la fascista? Si beva? Lei che esce sotto le copertine gli fa... Sta... Benissima. E lo va. E no. Prima che ti faccio lanciare la chitarra, tu hai immaginato, è una cosa carina, cioè Carmen che va a fare la spesa. Sì, in realtà nessuno sa, questo lo possiamo dire, perché me l'ha confessato lei, infatti io sdunavo quando lo scrivo, perché non lo sapevo, e mi ha confessato che in realtà l'ultimo bacio, questa colora sonora di questo film straordinario, non è altro che la lista della spesa di Carmen Conce. Cioè è nata per casco un giorno, non mi guardare così, vi chiederò un poco, vi chiamate in diretta, faccio una figura. Allora, ecco, è nato praticamente un giorno, pressa poco... Così. Così. Vai. Vai con la basso così, alzami un po' il microfono così. Allora, arriva la signora Maria Rosa, ah, ma io che c'è lì, stasperi, sono tu scontanemente, capiste? Carmen contenta, si lava, si prepara, si veste, si vede il cappottino, esce dalla porta, comincia a scendere le scale del pianerottolo, comincia a salutare tutte le persone del palazzo. Buongiorno signora Maria, buongiorno portiere, mi ha scritto qualcuno, non mi caga nessuno. a niente, a un certo punto esce, guarda fuori piove, ma anche nella pioggia lei trova la poesia, non si perde, Dani. Piove, piove, su lacrime d'amore, la pioggia dell'ina che scende leggera, la pioggia dell'ina che scende leggera, mica rinforza, trunia, è meglio che corra. Arriva finalmente in salumeria, si toglie il cappottino bagnato, arriva questa lista della spesa davanti al salumiere e nasce il primo testo dell'ultimo bacio che presto a poco faceva così. Pomodorini me ne faccia un netto e due melenzane, poi quella zucchina, un pacco di riso, mezzo al chilo di limone, un po' di formaggio, no, lo grattucio io. Ma sono fragole, sono buone, buone. Ma sono fragole, sicuro buone, fragole, la mia passione, ma sono fragole, fuori stagione, non sono buone. Perdono! Io veramente l'ho, ma io l'ho, io. Io te l'avevo detto, tu l'hai fatta questa canzone tante volte e qui ho detto dovrà arrivare il giorno in cui Carmen sarà con te sullo stesso palco. Non ne hai idea di come sto io. Che ne pensi? Ma io sono avuto la passione del cibo, anzi l'ossessione del cibo, lui lo sa. Pure io essendo il, insomma. Lui lo sa, lui lo sa. E forse mancava qualche ingrediente ancora. Ah, che ci avresti, che possiamo anche cambiare, insomma. Ah, che bastanduno. No, è bellissimo. Però non faceva rima. Però ci sta bene. Basta tutti. Ci sta, ci sta perché c'ha questo. Hai ragione. Ci sta, ci sta. La metrica c'è. Hai ragione. Poi che? Eh, vabbè, il pistacchio. Pistacchio ce lo possiamo mettere. Sì. Ci potrebbe fare il pistacchio. Ci sta, ci sta. Portatevi c'è il tratteggiato sul cantato. Sì, certo. Economia del respiro, si chiama. Economia del respiro. Sì, sì, io risparmio, sembri. Ciao. Ciao. Bene, questa è bella. Mi piace perché... Va bene. Se la vuoi portare a casa... Sì, sì, ora la farà spissa. Sì, esatto. Carmen Conto di Sergio Friscia. Grazie, Carmen. Grazie. Grazie. Tu sei un disgraziato, sei. Tu sei un disgraziato. Io lo prendo come regalo di Natale, anticipo perché è la cosa più bella, veramente. Ora vado là dietro e mi metto a piangere. Tu mi farai litigare con gli artisti. No, invece, Carmen, lo abbiamo detto, è una nostra amica, un artista di grande simpatia, di grande talento e quindi era anche un po' prevedibile che alla fine si divertisse con noi. Grazie. Ci vediamo dopo per dei saluti. Va benissimo. Caro Pocket Coffee. Grazie di cuore, vi voglio bene. Come ti chiamavano? Ezio Citelli. Ezio Citelli. Come ti chiamavano nella fiction? Aspettate un attimo. Nella fiction qual era il tuo, il soprannome della persona che tu impersonavi, del killer? Pocket Coffee. Pocket Coffee. E poi sei finito con i cioccolatini. Sempre cioccolati. Sergio Friscia, Ezio Citelli, grandi e soprattutto Carmen, consoli.